Certamente un apprezzamento da tutti noi per il lavoro condotto a livello di tutti i ministeri, ma fitto credo che meriti per la collaborazione, l'impegno e la fatica una considerazione particolare. Da noi, tanto per citarne alcune, si interviene finalmente sulla tratta ferroviaria Palermo-Catania, ci vogliono 4 ore e mezzo per fare 200 km, potremmo portarli a 2 ore e 11 minuti alla fine del percorso. Per non parlare dell'autostrada Catania-Ragusa e ancora dalla Nord-Sud che taglia in due da Nord, da Santo Stefano di Camastra fino a Gela, la Sicilia, intersecando la Catania-Palermo. Quindi grandi infrastrutture molto importanti per lo sviluppo. Non va trascurato che sblocchiamo 686 milioni di euro per pagare tre rate di mutuo sanità, contratto questo mutuo per pagare i debiti di precedente gestione, mentre noi abbiamo rispettato in pieno il piano di rientro.